L'avevo già capito Hola ragazzi, è arrivato quel giorno Il giorno in cui vi urlo con tutte le mie forze Non comprate quel libro Sto parlando dell'opera prima e probabilmente ultima almeno per me Di Lucy Foley, morte nelle islands Allora, questo thriller aveva tutti i presupposti per essere un bel thriller Innanzitutto l'ambientazione perfetta nella natura selvagge in ospitale delle islands scozzesi Poi il gruppo di amici di lunga data che si rincontra ogni anno per festeggiare il capodanno insieme Infine i segreti che si intuiscono E invece una delusione pazzesca Ma andiamo per gradi Qual è la trama? Un gruppo di amici laureati a Oxford ogni anno si riunisce per festeggiare il capodanno Quest'anno si è deciso di andare in questa bellissima tenuta nelle island scozzesi Il libro parte già con la notizia che c'è stato un omicidio E poi ci sono continui flashback e ritorno al presente Per spiegare tutto quello che è accaduto fino al giorno della scoperta del corpo Il fatto di passare dai flashback di due tre giorni prima al momento in cui il corpo è stato ritrovato Mi sta anche bene Il tutto è raccontato da diversi punti di vista Perché ci sono Heather e Doug Che sono colei che gestisce la tenuta e il guardia caccia E poi tre delle protagoniste del gruppo di amici Miranda, Emma e Kate Si presuppone che uno di questi sia la vittima Visto che è raccontato dal punto di vista di questi cinque personaggi E pensare che quando io ho comprato questo libro Ero entusiasta della trama Quindi mi aspettavo colpi di scena a non finire Invece è di una noia mortale Non solo la storia che è prevedibile totalmente Ma anche lo stile È un piattume totale Non ci sono colpi di scena Non c'è suspense Non c'è nulla di quello che caratterizza un thriller Ben fatto almeno Quando viene trovato il corpo Ovviamente tutti sono sospettati Perché c'è una bufera di neve L'assassino o gli assassini Devono essere per forza lì, presenti E neanche in questo caso Il ritmo accelera o si modifica No, noia, noia, noia L'unico colpo di scena è che io ho scoperto L'identità della vittima e dell'assassino Prima di arrivare a metà del libro Unica nota positiva Se proprio ne devo trovare una È la riflessione sul concetto Di lasciar perdere le persone Quando il loro tempo diciamo si è esaurito Quindi di trovare la forza di andare avanti Perché quei legami ormai logori Non fanno altro che alimentare Paranoie e stress A parte questo È un libro che non consiglio E se qualcuno di voi l'ha letto Scrivetemi nei commenti Perché sono curiosa di leggere Pareri differenti dal mio Vi ricordo Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Sono Rosa alias Mystic Reader A sta la vista